Questo video è rilasciato con licenza Creative Common by 4.0. Che cosa sei libero di fare? Puoi riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare questo materiale con qualsiasi mezzo e formato. Puoi remixare, trasformare il materiale e basarti su di esso per le tue opere e per qualsiasi fine, anche commerciale. Devi però seguire le seguenti condizioni. Devi riconoscere una menzione di paternità adeguata, fornire il link alla licenza come di seguito e indicare se sono state effettuate delle modifiche. Puoi fare ciò in qualsiasi maniera ragionevole possibile, ma non con modalità tali da suggerire che il licenziante avvalli te o il tuo utilizzo del materiale. Divieto di restrizioni aggiuntive. Non puoi applicare termini legali o misure tecnologiche che impongano ad altri soggetti dei vincoli giuridici su quanto la licenza consente loro di fare. Al termine del video troverai le indicazioni necessarie per citare adeguatamente il presente materiale. Ciao a tutti. Quello che oggi vi presento è un seminario breve sui mammiferi all'octoni presenti nel territorio italiano. Per la nostra iniziativa io resto a casa e a casa con successione ecologica. In tempi recenti c'è stato un grande interesse a studiare la distribuzione dei mammiferi sul territorio nazionale, questo sia per elaborare dei piani di gestione efficaci per alcune specie, ma anche per garantirne la conservazione, specialmente di quelle più rare o più meritevoli di regimi di protezione. Questo che vi illustro in questa diapositiva è uno dei progetti che stiamo portando avanti su una piattaforma online che si chiama iNaturalist, in cui ciascuno di voi può caricare foto o anche osservazioni non correddate da foto di mammiferi presenti nel territorio nazionale e vedete il link in alto. Quello che abbiamo visto e che era anche sospettabile è che molte specie hanno un areale molto esteso e vi riporto l'esempio dello scogliattolo comune che è presente quasi in tutta Italia, dalle Alpi fino alla Campania settentrionale. Altre specie come lo scogliattolo nero calabrese che vi ricordo è una specie endemica che vuol dire che vive soltanto in Italia e in nessun'altra parte del mondo, sono invece presenti con un areale molto limitato, in questo caso sono due regioni, la Basilicata e la Calabria. Ci sono poi altre specie che sono praticamente sconosciute sul territorio nazionale e che hanno un areale puntiforme. E vi riporto il caso dell'orecchione balcanico, che è un pipistrello, che è stato rilevato solo in Toscana meridionale e soltanto una volta per adesso per quanto concerne l'Italia. Secondo una checklist recente guidata da Anna Loi e curata da tutto un gruppo di esperti nazionali che fanno riferimento all'Associazione Teoriologica Italiana, l'ATIT, che è l'associazione nazionale che si occupa dello studio dei mammiferi, in Italia sono presenti circa 126 specie e di queste 21 sono all'octone. Questa classificazione esclude le specie domestiche rinselvatichite e come vedete chi la fa da padrone, fra tutti i mammiferi, autoctoni e all'octoni, tutti insieme, sono proprio i chirotteri, i pipistrelli, seguiti dai roditori con 34 specie, seguiti a loro volta dai carnivori e dai cetartiodattili con 17 specie ciascuno, dai toporagni o soricomorfi, che includono anche le talpe con 15 specie, 6 specie di lagomorfi e 2 specie di rinaceomorfi che sono i ricci. Veniamo a parlare di quelle che sono le specie all'octone italiane e la più nota per tutta una serie di motivi è lo scogliattolo grigio. Lo scogliattolo grigio è una specie di origine nordamericana che presenta tutta una serie di piccole popolazioni in Italia introdotte a partire dal 1948 in Piemonte, in provincia di Torino, dove è presente la popolazione forse più diffusa. Molti piccoli nuclei sono presenti anche in Lombardia, mentre il nucleo introdotto in Liguria, da animali provenienti addirittura dal Piemonte, è stato sterilizzato con un progetto LIFE e quindi si spera che sia stato in questo modo arginato. Al contrario, in Veneto è presente una popolazione in espansione nel Padovano con alcuni individui anche in provincia di Rovigo. La specie era ed è presente in Umbria, però un progetto di eradicazione molto ben gestito ha fatto sì che questa fosse ridotta veramente all'osso e probabilmente il progetto ha avuto successo. Mentre in Toscana c'era un piccolo nucleo in provincia di Siena, veramente molto piccolo, apparentemente estinto, così come quello a Roma introdotto a Villa Celi Montana, che si sembrerebbe estintosi a causa della predazione da parte del gatto domestico. Sebbene non siano mai state osservate interferenze comportamentali dirette con lo scoiattolo comune, il nostro scoiattolo rosso, lo scoiattolo grigio può competere con questa specie nativa attraverso sistemi di esclusione competitiva. Questo perché? Questo perché riesce a nutrirsi anche, per esempio, di frutti non maturi come le ghiande, in quanto ha una serie di sistemi che detossificano i polifenoli delle ghiande acerbe, è capace di accumulare più riserve di grasso e riesce a muoversi molto al sole, questo gli permette di trovare molto più cibo e di espandersi anche di più. In questo modo viene a ridurre il successo riproduttivo dello scoiattolo comune e ne può determinare l'estinzione locale, esattamente come è successo nel Regno Unito. Un'altra specie un po' meno nota di scoiattolo all'octono presente in Italia è lo scoiattolo variabile, che è presente in Italia con due nuclei, uno molto localizzato nella stazione di Acquiterme, in provincia di Alessandria, e un'altra popolazione in espansione evidente, al sud Italia, introdotta nella piana di Maratea, ma adesso presente anche fino a Sapri e Palinuro, e probabilmente anche di più nell'interno, e a sud fino a San Nicola Arcella, in provincia di Cosenza. Questa specie risulta introdotta anche in Giappone e a Singapore e ha un'origine nel sud-est asiatico, nell'Indocina. Quali impatti ha? Come lo scoiattolo grigio, anche lo scoiattolo variabile esercita un massiccio scortecciamento, danneggia strutture elettriche e in più è stato recentemente rilevato che è un reservoir di una patologia, di una zoonosi, quindi trasmissibile anche all'uomo, che è la criptococcosi. Un'altra specie di scoiattolo, anche questa, come lo scoiattolo grigio e come il tamia siberiano che vedremo dopo, è elencata nel regolamento europeo del 2014 nella lista nera delle specie all'octone di rilevanza unionale. Cosa vuol dire? Che sono quelle specie che minacciano maggiormente la nostra biodiversità, in quanto presentano tutta una serie di caratteristiche di invasività, è lo scoiattolo del Pallas. Questo scoiattolo è presente con un solo nucleo in provincia di Varese che è sottoposto a controllo numerico ed è stato introdotto anche in Argentina e Costa Azzurra che è in Francia. Questa specie riporta anche un esempio emblematico perché è una delle poche specie di vertebrati eradicate con successo sulla terraferma e non su un'isola in quanto è stato eradicato dal Belgio. L'origine di questa specie, come vedete, è estremo orientale indocinese. Lo scoiattolo del Pallas è stato osservato che può acquisire i parassiti dello scoiattolo comune e quindi aumentarne la dispersione, inclusi alcuni nematodi intestinali che invece sono probabilmente suoi e quindi sono stati introdotti insieme a lui di origine asiatica e, come abbiamo già visto, per lo scoiattolo grigio può competere per il cibo e per lo spazio con lo scoiattolo comune, sebbene sia di dimensioni più piccole che farebbe sospettare una predominanza della specie nativa. Per concludere il capitolo sugli scoiattoli, un'altra specie all'octona presente nel nostro territorio con popolazioni naturalizzate è il Tamias siberiano che presenta in Italia tre nuclei a parte le fughe accidentali perché è stato a lungo un pet, un animale domestico molto diffuso. Invece i nuclei riproduttivi si trovano in provincia di Belluno, in Val Belluna, dove c'era la popolazione più grande ma sembra ridotta veramente a pochi esemplari. Il parco sicurtà che ospita attualmente la popolazione italiana più grande per questa specie e due parchi urbani della città di Roma che sono Villada e Villadoria Panfili. Altre popolazioni sono presenti variamente in Europa, ripeto perché è stato un animale domestico ampiamente diffuso, la cui detenzione è stata bloccata, un po' impedita, con il regolamento europeo del 2014 che vuol dire non che chi ce l'aveva non lo potesse più tenere ma che comunque chi non è più vendibile e chi ne avesse come pet ha dovuto denunciare. Il Tamias ha come impatto principale quello di essere un portatore di Borrelia che è l'agente ziologico della malattia di Lyme nell'uomo e sono state riportate anche delle predazioni a danno dei nidi degli uccelli, dei silvidi nonché sembra competere con roditori terragnoli presenti in nativi. Passiamo adesso a parlare della Nutria. La Nutria penso che sia uno dei roditori esotici più noti a tutti noi è un grosso roditore appunto che può arrivare a pesare anche oltre 5 kg che è presente in Italia dagli anni 60 perché? Perché era stato introdotto negli allevamenti come animale da pelliccia infatti è quello che veniva riportato con il nome di Castorino in seguito alla dismissione degli allevamenti per la svalutazione delle pellicce nonché ad alcune alluvioni probabilmente negli anni 60 questo animale è iniziato a diffonderti da prima in Italia centrale e poi come vedete lo troviamo sostanzialmente in tutte quante le regioni eccezione fatta per la Val d'Aosta che non è stata ancora conquistata da questo animale questo animale è un roditore semiacquatico che significa che passa una parte del suo tempo appunto all'interno di fiumi e laghi anche se ci sono delle osservazioni nella regione Marche anche in mare lungo la riva naturalmente è una specie quasi strettamente erbivora sebbene possa nutrirsi di alcuni molluschi del genere anodonta che sono dei bivalvi di acqua dolce e come vedete si è diffusa enormemente un po' ovunque comprese le isole maggiori c'è un piccolo nucleo in Sicilia molto localizzato e alcuni nucleo in Sardegna dove la specie sembra essere in espansione e nutriendosi di vegetazione acquatica capirete che questa specie esercita un danno non indifferente al canneto e attraverso lo scavo di tane può danneggiare gli argini dei fiumi a questo si aggiunga che è stato osservato in una riserva della regione Lazio che può usare i nidi galleggianti come piattaforme e quindi il calpestamento delle uova degli uccelli riduce il successo riproduttivo di questi stessi sono presenti tutta una serie di piani di controllo di questa specie localizzati soprattutto in Italia settentrionale dove ci sono i nuclei principali mentre per quanto concerne l'Italia meridionale diciamo che la specie non è controllata o comunque che non sono in corso piani di gestione di nessun tipo quando invece sarebbero molto importanti particolarmente per nuclei limitati come quello siciliano e come quelli sardi un intervento precoce e rapido sarebbe sicuramente più indolore dell'attesa di una popolazione naturalizzata di dimensioni più cospicue procedendo un'altra specie che abbiamo presente in Italia tra i lagomorfi è il silvilago o minilepre questo animale è stato introdotto per motivi venatori dal nord America e mentre le introduzioni sembrano essere fallite in Francia in Italia abbiamo una serie di piccoli o grandi nuclei soprattutto in Italia settentrionale e in Toscana del nord la specie è stata introdotta per motivi appunto venatori e si distingue dal coniglio selvatico in quanto ha le orecchie ben più corte se guardate le orecchie sono più corte della lunghezza del muso e questo è un carattere abbastanza diagnostico e per il fatto di essere una specie particolarmente adattabile infatti mentre per la lepre comune che è decisamente più grande sono necessari una serie di miglioramenti ambientali per garantirne la sopravvivenza anche in aree particolarmente disturbate dalle attività antropiche la minilepre riesce ad adattarsi anche ad ambienti come piccole siepi e anche campi disturbati compresi gli ambienti urbani ci sono delle città come Torino in cui è possibile vedere questo animale anche all'interno dei confini della città quali danni può esercitare può competere con i lagomorfi nativi per tutta una serie di più che altro per l'utilizzo delle risorse per motivi alimentari ed è responsabile probabilmente ma anche qui sono necessarie altre analisi perché ci sono alcuni articoli che un po' smentiscono può diffondere una serie di patologie epidemiche che attaccano le nostre specie native nella cartina manca una segnalazione che ho avuto di recente di una piccola popolazione presente da svariati anni in provincia di La Spezia quindi è presente anche diciamo in Liguria orientale sempre dal Nord America e passando ai carnivori ha origine un'altra specie anche se elencata come specie all'octona di rilevanza unionale quindi una specie invasiva i cui danni sono molto importanti proprio a livello europeo questa specie è il procione in Italia abbiamo due popolazioni una popolazione in Lombardia e un'altra in Toscana settentrionale dove si presume però ovviamente anche qui occorrono dati in più che sia fuggita da uno zoo locale in realtà di questa informazione non c'è certezza anche se sembra che ci siano una serie di collegamenti ci sono un paio di citazioni di un lavoro presentato a un congresso in cui la genetica indicava una similitudine con gli animali di questo stesso parco zoo gli impatti principali esercitati da questa specie contemplano la competizione con alcuni carnivori nativi legati ad ambienti ripariali come la lontra e la puzzola nonché una predazione a danno dei gamberi autoctoni naturalmente quindi sapete che in Italia c'è una specie di gambero tutelata anche dalla direttiva habitat che è l'ostrapotamobius pallipes che vive nei corsi d'acqua interni quindi soprattutto nei fiumi e che può essere danneggiata dalla presenza di questo carnivoro il quale può anche rappresentare il potenziale vettore di una serie di patologie e di zoonosi in particolare per quanto riguarda la popolazione in Toscana vediamo che le prime segnalazioni risalgono al 2013 probabilmente ma da verificare in seguito a una fuga da uno zoo locale come vedete nella foto in alto a destra e dal 2013 al 2019 c'è stato un aumento esponenziale dell'areale di presenza di questa specie che è arrivata a coprire anche il versante romagnolo di questo parco nazionale i danni che questa specie gli impatti che può provocare sulla biodiversità nativa sono ancora oggetto di analisi sebbene come potete vedere dalla foto in basso a destra abbiamo già registrato un impatto una predazione a danno del gambero nativo che è l'austrapotamobio spallipes che sarà valutata con ulteriori indagini di campo anche quest'anno un'altra specie di carnivoro introdotta nel territorio nazionale in seguito agli allevamenti per le pellicce un po' come la nutria è il visone americano il visone americano è un carnivoro mustelide che è stato importato in tutta Europa ma non solo anche in molti paesi dell'Asia per l'allevamento delle pellicce anche qui in seguito alla svalutazione e un po' alla crisi del mercato di questo capo di abbigliamento nonché a una serie di blitz pseudo-animalisti che hanno liberato quantitativa elevatissimo sono più di 60.000 animali nel territorio nazionale quello che vediamo è che ci sono una serie di popolazioni che si sono naturalizzate anche in Italia e infatti è presente con la popolazione più grande in Veneto e in Friuli Venezia Giulia ci sono alcune segnalazioni dal Trentino un'altra piccola popolazione sta in Lazio un'altra in Abruzzo e c'è anche una popolazione in espansione in Sardegna gli impatti esercitati dal visione americano quelli più conclamati sono la competizione con alcuni carnivori nativi sebbene negli studi condotti in Inghilterra facciano supporre che la lontra autoctona sia quella più forte infatti anche di dimensioni maggiori però non è da escludere sebbene manchino dei dati di campo solidi una competizione con la puzzola considerate che in nord Europa compete anche con il visione europeo che è una specie molto simile autoctona e che è particolarmente rara e localizzata a livello di alimentazione quello che è stato visto in uno studio recente condotto in Veneto è che il visione americano può andare a predare una specie endemica italiana cioè presente solo nel nostro paese che è l'arvicola d'acqua italiana passiamo passiamo a questo punto ai cervi introdotti entrambi del genere cervus in questa cartina vedete in nero la distribuzione su scala nazionale del cervo del cervus è la fussa autoctono e sono due le specie di cervi all'octoni presenti in Italia la prima è l'uopiti del cervus canadensis che è presente in realtà in un'area semiconfinata che è il parco dell'Avandria è stato introdotto in quest'area in provincia di Torino e lì sono ancora presenti degli animali molto presumibilmente ibridi con il cervo comune con il cervo europeo e questi animali sono portatori di un parassita nordamericano che è la fascioloide smagna che infetta in maniera letale per esempio il capriolo autoctono considerate che all'interno del parco della Mandria sono presenti sia questi cervi presumibilmente ibridi sia daini mentre il capriolo è una presenza occasionale che non riesce ad insediarsi intanto in Emilia Romagna prevalentemente nelle province di Modena e di Parma sono presenti alcuni cervi sica che è una specie di origine giapponese ampiamente diffusa anche in Europa purtroppo come special loctona però prevalentemente in Inghilterra e in Europa centrale e in Italia si cominciano ad osservare alcuni animali proprio in quest'area e questo avrebbe un'importante necessità di monitoraggio un altro ungulato all'octono presente nel nostro territorio è l'ammotrago che è questa specie di muflone di origine nord-africana abbondantemente introdotto in Spagna e in vari altri stati mentre è particolarmente localizzato con popolazioni frammentate nell'area nativo in Italia è stato introdotto almeno con due popolazioni una in provincia di Varese dove pare che si sia estinto che comunque la popolazione sia fortemente depoperata e un'altra popolazione in potenziale espansione nel parco del Begua in Liguria al confine con l'Alessandrino in una review del 2015 è stato sintetizzato che gli impatti principali di questa specie contemplano la competizione con gli ungulati nativi per le risorse trofiche e una certa alterazione dell'habitat dovuta all'erbivoria nonché una serie di diffusioni di patologie sia a ungulati selvatici sia al bestiame invece domestico bene a questo punto passerei a un altro capitolo che è quello delle paleointroduzioni le paleointroduzioni sono specie introdotte in Italia prima della scoperta dell'America è stata decisa questa data è stata fissata questa data si tratta pur sempre di specie all'octone perché vorrei anche chiarire che nessuna specie all'octona diventa autoctona per definizione una specie si diventisce aliena o all'octona quando è presente in un territorio per intervento diretto o indiretto dell'uomo pertanto queste specie sicuramente sono più adattate ai nostri ecosistemi ma rimangono specie introdotte per definizione e quindi le analizzerò con una carrellata in realtà immagino che per molti di voi queste siano specie che vedete comunemente e che forse non avete mai valutato che potessero non essere native la più nota come avete visto anche adesso è il daino il daino è presente in Italia è una specie di origine medio orientale ed è presente in Italia in seguito alla fuga da recinti che erano sia per motivi ornamentali sia per per la carne è stato introdotto in epoca fenicia in Sardegna dove sono presenti ancora alcuni nuclei e in epoca romana si è poi è stato poi importato in Italia peninsulare e anche dopo in Sicilia dove ha formato una serie di nuclei alcuni molto molto espansi come come quello in Toscana ed è stato osservato sia da Focardi sia da Francesco Ferretti una competizione con il capriolo che invece è una specie di dimensioni più piccole ma che è nativa ed è stata anche osservata un'alterazione degli habitat dovuta all'erbivoria di questa specie il muflone invece è una specie che deriva dal rinselvatichimento della pecora domestica per quanto riguarda l'Italia è considerato autoctono solo in Sardegna ed è addirittura tutelato dalla direttiva habitat per una di quelle specie per cui è necessaria una rendicontazione sessennale dello stato di conservazione delle popolazioni in seguito è stato introdotto per motivi ornamentali e venatori in molte isole dove è soggetto a controllo come l'isola di Elba l'isola del Giglio e con tanti piccoli nuclei sia sull'arco alpino sia lungo la catena appenninica il coniglio selvatico rappresenta invece un paradosso per la conservazione in quanto è una specie minacciata nel suo areale nativo che è la penisola iberica e invece è riportata come una delle specie invasive più impattanti in tutto il pianeta in Italia lo abbiamo da tempi storici introdotto per la caccia con popolazioni molto numerose in Sicilia e Sardegna e in svariate isole e con alcune popolazioni invece più puntiformi o meno estese in Piemonte Lombardia Toscana e in altre regioni è stato eradicato da due isole una delle quali l'isola di Monte Cristo insieme all'eradicazione del ratto anche la lepre presente in Sardegna è in realtà un taxon introdotto dal Nord Africa fino a tempi molto recenti denominata Lepus capensis e invece analisi filogenetico-molecolari hanno mostrato che la specie in realtà appartiene a un taxon diverso originario della Tunisia e del Nord Africa che si chiama Lepus mediterraneus ed è stata introdotta in Sardegna per motivi venatori una simile origine è presentata da un toporagno che si chiama Crocedura Pachura introdotta questa in realtà per motivi presumibilmente accidentali è una specie originaria del Nord Africa che va dall'Algeria circa la Tunisia alla Libia ed è presente sull'isola di Pantelleria con una sottospecie endemica e in Sardegna tra i carnivori paleo introdotti anche la genetta la genetta non è stata introdotta direttamente in Italia ma sembra che sia stata introdotta invece dall'Africa in Spagna e nel tempo la popolazione si espansa fino a conquistare gran parte della Francia e in tempi più recenti il secolo scorso sono iniziate le osservazioni nel Cuneese e recentemente è stata fototrappolata anche in Liguria in provincia di Imperia per quanto concerne gli impatti della genetta questi potrebbero contemplare la competizione per risorse trofiche ma anche per l'utilizzo delle tane con alcuni carnivori nativi nonché una predazione a carico di uccelli nidificanti più che altro silvidi l'istrice è un caso ampiamente dibattuto in quanto la specie è ampiamente diffusa in Italia ma sia la documentazione fossile che sappiamo essere incompleta sia soprattutto le analisi genetiche ci inducono a ritenere che l'animale sia stata la specie sia stata introdotta dopo la fine dell'impero romano d'occidente a partire dal nord africa dalla barberia ci sono anche una serie di dati parassitologici comportamentali e craniometrici che supporterebbero l'origine introdotta sebbene alcune voci fuori dal coro continuino a considerare l'istrice come una specie nativa anche per quanto riguarda i roditori muridi commensali si tratta di tre specie che sono il ratto bruno il comune ratto delle fogne il ratto nero che è il ratto che osserviamo comunemente nei chetti e nelle navi e il topolino domestico che sono specie introdotte in tempi storici perché comunque il ratto nerovegicus sembra essere presente proprio al limite del palo introdotto introdotto mentre gli altri due sono presenti da quando l'uomo ha raggiunto l'Europa quasi da tempi molto lunghi si sono espansi anche in seguito all'espansione dell'agricoltura gli impatti provocati contemplano una serie di zonosi e anche di danni alle errate alimentari e sono specie non protette dalla legge nazionale 157 del 92 che proprio esclude questi topi e questi ratti che quindi sono spesso soggetti a controllo ovviamente coordinato dalla gestione degli enti locali passiamo all'ultima sessione che è quella forse più più curiosa e che può stimolare di più le vostre ricerche che è una sessione di specie che sono state osservate nel territorio nazionale ma per le quali in realtà non abbiamo dati di riproduzione o comunque le osservazioni non sono state costanti nel tempo tra queste si annovera per esempio l'ondatra che è il topo muschiato questa specie è stata introdotta un po' in tutta Europa per le pellicce negli anni nel secolo scorso e le osservazioni in Italia sono molto sporadiche quindi al di là di alcune osservazioni in Emilia Romagna e nell'Alessandrino tra gli anni 60 e gli anni 80 la regione in cui ci sono state più osservazioni sebbene separate l'una dall'altra da un sacco di anni e quindi non si possa certificare la riproduzione di questa specie in Italia è il feruli Venezia Giulia dove le ultime osservazioni sembrano risalire all'inizio degli anni 90 lungo il torrente Natisone per quanto riguarda il cane procione anche per questa specie non abbiamo informazioni sulla sua riproduzione in Italia e le poche osservazioni disponibili riguardano appunto esemplari osservati o fototrappolati in Italia nord-orientale si tratta di una specie di origine asiatica introdotta per la pelliccia a partire dagli anni 20 è abbondantemente presente in Europa centro-orientale quindi in Germania in Polonia ed è presente appunto in almeno 10 stati europei le osservazioni riguardano le province autonome di Trento e di Bolzano appunto l'ultima nel 2016 e poi dal 2000 al 2010 ci sono svariate osservazioni anche in Friuli Venezia Giulia in provincia di Udine e Gorizia curioso è il caso dell'istrice indiano che è stato registrato in provincia di Macerata nel 2015 attraverso un progetto di Citizen Science coordinato dal Museo di Storia Naturale della Maremma e fra le varie foto inviate per questo progetto ce n'era una di un esemplare che come venite dalla foto non è l'esemplare di Macerata è una foto del web questa però vedete che ha diversamente dall'istrice presente in Italia la cresta completamente nera e in seguito ad aver rilevato questa foto sono stati raccolti degli aculei in prossimità proprio della tana di questo animale e in mezzo agli istrici comuni istrix cristata sono stati rilevati quindi è stato rilevato anche il DNA dell'istrice indiano dell'istrice asiatico l'impatto che può avere può produrre degli ibridi fertili con l'istrice comune l'istrix cristata anche se questi sono stati osservati solo in cattività e ricordiamo che l'istrix cristata sì potrebbe essere una specie all'octona ma è anche tutelata ai sensi della direttiva habitat e pertanto è meritevole di misure di conservazione e quindi un altro monitoraggio in quest'area sarebbe particolarmente richiesto tra gli scoiattoli il funambolo delle palme è uno scoiattolo di origine asiatica indiana che è stato rilasciato in Italia con un totale di un centinaio di esemplari proprio in provincia di Belluno nella stessa area in cui furono rilasciati i tamia siberiani e questo a fine anni 60 in realtà questi animali sembrano non essersi insediati anche se c'è una singola osservazione di un singolo individuo nell'ottobre del 2013 che fa pensare che forse qualche animale potrebbe potenzialmente essere ancora presente e ulteriori indagini sarebbero auspicabili similmente da Facebook dal gruppo dell'associazione etereologica italiana è emersa due segnalazioni una nel 2017 e una nel 2019 di uno o due esemplari di scoiattolo tricolore nei pressi di Mestre questo animale è attualmente abbastanza diffuso come animale da compagnia come animale domestico è una specie di origine indonesiana e anche qui sarebbero necessari ulteriori monitoraggi per andare ad acclarare la presenza o meno della specie nell'area concludiamo con quelli che sono i mammiferi all'octoni estinti ovvero quelli che non sono più presenti nel territorio nazionale che sono la lepre iberica che era stata introdotta dopo il 2010 in provincia di Varese ma non sono noti nuclei di questa specie nell'area il marà o lepre della Patagonia che era stata osservata nei dintorni del padule di Fucecchio sembra non essere più presente il Nilgau che è un bovido asiatico che era stato introdotto ma questo un secolo fa presso Castelporziano il parco di San Rossore il parco del Lamandre dove non è più presente la mangusta grigendiana introdotta nel parco del Cicceo che non si sarebbe mai naturalizzata quindi se avete altre osservazioni vi chiederei di caricarle i mammiferisi auto-codone e all'o-codone nel progetto che vi ho fatto vedere all'inizio di questa presentazione su iNaturalist vi ringrazio a tutti per l'attenzione in questa slide trovate anche il link della licenza Creative Commons by 4.0 e il sistema il metodo corretto per citare questo mini corso vi ringrazio vi saluto e state a casa e tutelate voi e i vostri cari vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio e i vostri cari vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio vi ringrazio